Io sono Giada, sono una fotografa pordenonese, scatto da circa cinque anni, di base sono una fotografa ritrattista e matrimonialista, il mio essere donna è essere divisa diciamo un po' in due parti, un connubio di due parti completamente diverse, diciamo che sono divisa un po' in due parti, una parte di me è molto fiabesca, molto soffice, dolce, l'altra parte invece è molto più macabra, molto più buia, scura, tenebrosa, paurosa, perciò diciamo che queste due parti si riversano poi in quello che faccio, nelle fotografie che io cerco di esprimere. La donna all'interno dell'ambito fotografico è vista in modo un po' diciamo particolare, ma come un po' comunque penso, sicuramente se si è donne, se magari anche giovani, si è abbastanza viste di cattivo occhio per il fatto che appunto si è donne e si è in un senso che dicono ma questa qua dove esce fuori, ma perché, ma come fa ad andare avanti e ho sentito tante cose anche riguardo a me, magari facendo, quando avevo iniziato c'era magari qualche foto nei locali e si sentivano di quelle battute che poi in cima, però effettivamente questo è, la donna è vista così. Poi sta un po' alle donne a far vedere che insomma sono donne che hanno anche loro le palle alla fine e che c'è solo da avere il coraggio di andare avanti, magari sbattere la testa sul muro.